Nel 5 dicembre giornata di sciopero nazionale di medici, infermieri e dirigenti sanitari che ha raggiunto picchi di astensione dal lavoro dell'85% al netto dei salvaguardati servizi d'emergenza, la Regione Marche ha presentato un importante stanziamento di risorse in favore della categoria dei medici di medicina generale. Un accordo da 4 milioni di euro. Si tratta di un accordo regionale che è un corollario dell'accordo nazionale. La necessità era quella di rinforzare l'assistenza sanitaria territoriale a seguito della nota carenza dei medici di medicina generale. Si aiutano con degli incentivi i medici a potenziare il servizio di segreteria, la loro permanenza, la loro aggregazione e quindi è un percorso importante e virtuoso. Ringrazio i medici di medicina generale, i pediatri, i loro sindacati, la FIMG, lo SNAMI e soprattutto i dirigenti della Regione che sono giunti a questo importante accordo che si aggiunge agli impegni della Regione, agli investimenti sugli ambulatori funzionali territoriali, i punti salute e quindi questo è un primo tassello di un percorso che vogliamo corroborare con loro. Soddisfatta la federazione dei medici di medicina generale per un accordo che punta ad un'inversione di tendenza rispetto all'impoverimento d'organico in cui versa la categoria. È successo nel giro di quattro anni, sostanzialmente i medici sono passati nella Regione Marche, i medici di famiglia, dal numero di 1.250 a poco più di 900, quindi abbiamo perso circa 300-350 unità e questo ha comportato una serie di problemi come la disponibilità, la scarsa disponibilità dei medici soprattutto nelle aree più interne della Regione, ma anche una media assistiti per medico, come dicevamo prima, molto più consistente. Siamo passati da una media di 1.100-1.150 per medico a una media di oltre 1.350-1.400. Quindi significa che il lavoro per i medici è diventato molto più oneroso e molto più difficile e questo ha comportato la necessità di dover riadeguare gli strumenti che avevamo a disposizione. Quindi abbiamo chiesto e su questo c'è stata grande sensibilità da parte della politica regionale, dell'assessore, del presidente e di tutti i collaboratori del servizio salute per venire incontro a quella che era una richiesta che andava a cercare di migliorare gli standard erogativi della medicina di famiglia.